Sono in corso le indagini dei carabinieri che faranno piena luce su quanto accaduto, ma vogliamo ribadire che siamo tutti Andrea Gennai e proseguiremo le attività di controllo, di valorizzazione e di salvaguardia del territorio e dell'area protetta. Sono le parole del presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Carrara, all'indomani dell'atto intimidatorio subito dal responsabile dell'ufficio tecnico Andrea Gennai, al quale sono state rivolte minacce attraverso un gesto eclatante ed un cartello. Sulla recinzione della sede del Lenti a Pescassero l'ieri mattina 1 aprile, le dipendenti del parco hanno trovato la testa di un agnello scuoiato e sanguinante e nel cartello appeso a poca distanza si fa preciso riferimento all'attività svolta dal dirigente. Non si è trattato di un pesce d'aprile, secondo i vertici del PNALM, tanto che l'episodio unico nel suo genere in tutta la storia del parco che è stato istituito nel 1923 e è stato condannato da Federparchi, dal presidente della regione Marco Marsiglio, dai sindacati Cigelle e Cisle Will, da enti, associazioni e cittadini che hanno espresso solidarietà a chi gestisce e lavora nel parco. Sono in corso indagini dei carabinieri, c'è il più stretto riservo, ma voi avete dei sospetti? Ma è difficile che gli possa esprimere dei sospetti. Chi ci ha lasciato il messaggio ha dato lui stesso un'indicazione, facendo un riferimento esplicito alle demolizioni. Quindi la minaccia al nostro funzionario, da Andrea, è quella che se non te ne vai ti demoliamo noi. Quindi mi pare abbastanza esplicito che il campo di indagine vada esplorato in quell'ambito, nell'ambito di chi ha fatto abusi di lì si è stato represso dal parco. Intanto, sul fronte della valorizzazione e salvaguardia della fauna protetta, il presidente Carrara accoglie favorevolmente la notizia che il Ministero dell'Ambiente ha elaborato il nuovo piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, che non prevede le uccisioni e quindi quegli abbattimenti controllati che erano previsti nel precedente piano del 2017 e che avevano provocato accese polemiche e proteste di cittadini ed ambientalisti fino ad arrivare al congelamento del provvedimento nella conferenza Stato-Regioni. Saluto, come dire, positivamente il fatto che la nuova versione del piano non preveda più, in automatico, un abbattimento selettivo del 5%, così come avevamo chiesto di metterle da parte e che si concentri molto e quindi spero che le regioni da questo punto di vista lo licenzino al più presto, ma anche che si trovino delle risorse adeguate.